No, lei non stava neanche registrando. Adesso che ti vuoi comprare casa, aspetta un attimo. Sì, mica vado in Veneto, è stata una figura. Aspetta un attimo, amici, se entri in quel settore lì, ti trovi quello che ti fa la ristrutturata. Sì, comunque è abbastanza complicato. Cioè è bello, è interessante.